Un quartiere sotto accusa, un quartiere che non parla, schiavo della paura se va bene, altrimenti di una mentalità che è quella del niente saccio, del fatti fatti tuoi e campi cent'anni. Un quartiere finito sulla prima pagina di Repubblica, un quartiere che non è di Corleone ai tempi di Totò, è a Milano, periferia va bene, ma sempre Milano. Ma loro, quelli che in quel quartiere vivono, non ci stanno. Io posso dire che questo quartiere non è omertoso. E io pregherei gli amici di Repubblica, che io stimo, perché stimo e perché fanno anche un buon lavoro, di essere un po' più corretti nei nostri confronti, perché assolutissimamente questo quartiere è un quartiere di persone per bene. Quel pomeriggio di un anno e mezzo fa è ancora in quei fiori piantati dove cadde Luca Massari, dove venne brutalmente picchiato per aver investito un cane. Morì un mese dopo. Una condanna è un processo strano adesso, con i testimoni che non parlano più, solo quattro in aula, gli altri a casa, perché hanno paura. I Citterio qui li conoscono, brava gente i genitori. Io conosco i Citterio, sì che li conosco. Quando li vedo, buongiorno, buonasera, li saluto. Poi se i figli hanno fatto un qualcosa, ahimè, ma non sta a me giudicarli, sarà, c'è la giustizia che giudica, no? In Italia, viva Dio, dobbiamo avere fiducia nella giustizia, perché se non abbiamo fiducia nella giustizia, allora signori miei. C'è anche Carmela Rozza, oggi in largo caccia Dominioni. Parla anche lei, difende la gente di queste case popolari, con un po' di verde in mezzo. Attacca invece la magistratura e la giunta Moratti. È lì che si devono rintracciare gli errori che hanno portato a questo epilogo. Certo è che se la magistratura mi dà gli arresti domiciliari a uno dei colpevoli, che deve essere processato, nello stesso stabile, dove ci sono i testimoni, capisco le difficoltà di alcuni testimoni di presentarsi, perché in questo anno, anno e mezzo, cosa è successo? Niente. Quindi questi hanno avuto il tempo di minacciare la gente, di ricordare a ognuno che ha i figli piccoli e così via. Punto secondo, all'allora giunta, io avevo chiesto di spostare, di chiedere a tutte le persone che erano testimoni, se volevano andare a vivere in un altro quartiere. Non l'hanno fatto.